Ti serve l'attestazione ISEE? L'INPS ti aiuta con il servizio ISEE precompilato sul sito www.inps.it. Controlla i dati già inseriti nella DSU, i patrimoni immobiliari, i patrimoni immobiliari, i redditi, eventuali trattamenti erogati dall'INPS. Inserisci i dati mancanti, la composizione del nucleo, i dati non trovati, gli elementi di riscontro, la delega per ogni componente maggiorenne. Invia la dichiarazione. Dopo la verifica, l'INPS ti comunica lo stato della DSU. Se risulta elaborata, accetta e scarica il tuo ISEE. ISEE precompilato. Ti semplifica la vita.